Al via l'agrididattica a distanza per 6.000 alunni delle scuole pugliesi e l'iniziativa allo sviluppo sostenibile l'educazione alimentare di Coldiretti. La prima fase dell'agrididattica integrata a distanza, organizzata di concerto con l'ufficio scolastico regionale, interesserà 6.000 studenti delle scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, spiega Floriana Fanizza, leader nazionale e regionale di Coldiretti Donne Impresa, con videolezioni supportate dal diario di campo a disposizione di insegnanti e docenti, svolte dalla nostra rete delle fattorie didattiche della Puglia in piena campagna, in modo da poter far vedere agli alunni le bellezze delle nostre campagne e tutti i cicli della produzione agroalimentare. Abbiamo proposto il progetto a tutte le scuole di ogni ordine e grado per dare seguito alla formazione svolta all'interno delle masserie didattiche, oggi limitata a causa dell'emergenza. Il percorso formativo consente l'integrazione della formazione a distanza con attività esperenziali complementari, come visite virtuali nelle aziende agricole e masserie didattiche, nei mercati di campagne amiche e negli orti urbani. Per rendere più agevole la scelta di insegnanti e mamme del percorso agridattico preferito, è stato attivato il primo portale nazionale delle fattorie didattiche di Coldiretti, che aiuta, grazie a una cartina di georeferenziazione e ad ogni informazione utile, a facilitare la scelta ad individuare la fattoria green confacente alle necessità dei bambini.